Andrea Civati, una scelta precisa per Stefano Bonaccini. Sì, questa sera partiamo con la prima serata in provincia di Varese di promozione e costituzione del comitato promotore appunto a favore della candidatura segretario nazionale di Bonaccini. Partiamo ovviamente da un luogo centrale della città, della nostra provincia, anche per riavvicinarci un po' ai luoghi frequentati dalle persone. Un periodo particolare, però comunque è importante cominciare a parlare, a confrontarsi sui grandi temi nazionali ma anche quelli locali per continuare a costruire un partito democratico sempre più attivo, propositivo anche a Varese. Ma da che cosa si riparte in concreto? Beh, lo definiremo insieme. Bonaccini sta facendo un giro di tutta Italia proprio per avere una prima fase di confronto con i territori per capire quali sono i temi. A gennaio verrà pubblicata la mozione, il vero e proprio testo, quindi con tutte le proposte. Quindi in questa fase la cosa a cui teniamo maggiormente è quella appunto di entrare in contatto in ascolto con tutti i nostri iscritti, i nostri simpatizzanti e anche i semplici cittadini che guardano con attenzione a questa fase del Partito Democratico. Grazie.